5 4 3 2 1 via 30 3 sinistra lunga stringe in 3 destra lunga apre 80 4 sinistra lunga stringe 50 4 destra lunga apre su trinale 100 4 destra lunga apre su trinale 80 2 non viste sinistra stringe apre lunga stringe 2 lunga apre in 3 destra lunga apre tieni la sinistra su 50 4 destra lunga stringe 3 in 4 sinistra lunga apre 50 3 sinistra lunga stringe attraverso tunnel 50 3 destra lunga apre e 6 destra su trinale e tieni la sinistra su 30 3 destra lunga stringe e tornante non visto aperto a sinistra apre 30 tornante non visto destra apre 6 lunga 30 4 sinistra stringe 30 4 destra stringe in 3 sinistra lunga in 3 destra 30 1 destra lunga apre in 3 sinistra molto lunga 60 4 destra lunga apre su trinale 30 4 destra in 3 sinistra molto lunga stringe 2 lunga in 4 destra lunga in 4 destra lunga 30 4 sinistra in 4 destra lunga tieni la sinistra su 50 attenzione 6 destra 5 sinistra molto lunga in 5 destra lunga rallenta tieni la destra su 60 tornante aperto non visto sinistra tieni il centro su 80 6 sinistra lunga apre su trinale tieni la sinistra su 150 tornante aperto non visto destra in 6 sinistra lunga 50 6 destra su trinale salto 50 3 destra stringe 3 sinistra tieni la destra su 50 su trinale 6 sinistra sul quadro in 4 destra